Vertical Grip Flashlight Holder della Swiss Army, interamente in polimero addizionato con zinco, materiale molto resistente e molto robusto, di tipo balistico. Abbiamo questa grip con portatorcia, maniglia in pugnatura anteriore con portatorcia. Andiamo a vedere come funziona effettivamente. Tramite una chiave a brugola di cui abbiamo una copia dentro la scatola, andiamo ad allentare questa vite posta sul davanti. Poi prendiamo la nostra torcia, considerando bene che debba essere lo stesso diametro, e la inseriamo delicatamente sul davanti. Tiriamo la vite fino a che non è ben avvitata e a questo punto la torcia è pronta per funzionare. Premendo questo tasto sul retro andrete ad azionare il pulsante che sta sul retro della torcia, e la torcia si accenderà. Queste due slitte laterali sono slitte WeAware, una e due, sono smontabili sempre con la chiave a brugola, e questa parte qua serve per agganciarla sul fucile, sull'arma, dovunque voi desideriate, purché abbia un passo WeAware picantini. Quindi queste due bullonature laterali vanno ovviamente tirate a misura. Nell'impugnatura invece, molto interessante, troviamo questa parte in gomma, che è amovibile. Svitando il sotto, questa è amovibile per piazzare un eventuale contatto diretto per la torcia, o per un eventuale laser che viene messo esternamente. All'interno troviamo una parte vacua, dove andremo a piazzare le due batterie che vanno poi inserite sulla torcia. L'impugnatura viene venduta ovviamente priva di batterie e senza torcia, poiché metterete quella di vostra proprietà. Per cui l'impugnatura vi arriverà in questa maniera. Completa in tutte le sue parti, ma semplicemente da poi assembrare con la torcia che preferite. All'interno troviamo la torcia.